Buono il lavoro di Sanchez in palleggio, incontenibile, lo prende in live, spalla che fissa, attenzione, di Natale, posizione regolare, di Natale fa fuori lo salto, di Natale, 1-0, Udinese in vantaggio. Sanchez l'artiglia il pallone, riesce a gestirlo, poi un paio di finte, 3, poi va sul fondo, poi la palla messa in mezzo e poi il tiro! E' la doppia dell'Udinese che trova il gol, un gol importantissimo, ancora una volta con Di Natale, prontissimo. Attenzione, adesso ancora di Natale, 3-0, Udinese, 3-0. Asamoah apre ancora per Armero, scende il colombiano, palla sulla destra, dentro morbido per Floro Flores, Floro Flores! 4-0, posizione regolare di Floro Flores, tutti fermi i giocatori del Lecce.